E allora ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus Abbiamo completato il primo livello ed anche il secondo livello tutto al 100% Raccogliendo tutti i vari mattoncini Ne dobbiamo raccogliere tanti, non solo per i personaggi Ma perché dobbiamo sblocchiare anche i blocchetti rossi Quindi ci andiamo a fare il terzo livello, idra su rotaia Se andiamo a controllare come siamo andati Qua non abbiamo raccolto un tubo Qua soltanto uno E qua neanche un tubo Quindi ci conviene partire dall'inizio E ci scegliamo Allora io direi di prendere Hulk Prendiamo questo Hulk qua Un po' più Meno abbronzato e più verde Vai Sì, ok Ok dai Hulk quasi non c'entra Porca miseria Ok dai Rompiamo un po' di roba Bravo Hulk Bravo Magari questo per il salvataggio non ci conviene tanto Ok Qua non ci sta un tubo Ok Ah già qua iniziamo già subito a costruire qualcosa Però abbiate pazienza Visto che c'è tanta robina qua Non vorrei che poi magari Ma non credo che sarebbe stato bene con la calza maglia Se anche il vecchietto non abbiamo sblocchiato ancora niente Ah ecco qua Qua già abbiamo preso qualcosa Quindi attenzione Non vorrei che poi dopo ci troviamo in inferiorità Ok Andiamo anche da quest'altra parte Bravo Hulk Bravo Hulk è uno dei miei preferiti Perché qua rompe tutto Oh là c'è un fantastico poster di Capitano America Hulk mi sa che qua non c'entri Yes Non c'entri qua Ah ecco Abbiamo rotto un altro Ah aspettate un attimo Che là Bisognava raccogliere i poster Ok Quindi già ho capito che ci sono dei poster Che dobbiamo raccogliere per sblocchiare Allora qua innanzitutto Possiamo sicuramente Utilizzare un nostro personaggio Per attivare qualcosa Allora facciamo un primo cambio Ci prendiamo subito Lei se non sbaglio E utilizziamo questo Vediamo che cosa facciamo Ah devo fare canestro Ah ok ok Vai Perfetto il primo l'abbiamo blocchiato Brava ragazza Ma possiamo fare altri canesti Ma anche no Ok perfetto Allora tu penso che anche qua Potresti azionare qualcosa Credo no Ah no già Tu non sei in grado Porca la paletta E allora ci prendiamo Lei L'agente Carter Agente Carter vai Ah forse perché c'è il cappello eh E infatti là c'è qualcosa Ah è il primo che abbiamo sblocchiato Brava ragazza vai Entra entra Questa te lo meriti tu Ammazza Non avevamo beccato neanche uno Che pistoletta che c'hai Mi sa che con questa pistoletta Non è che andiamo molto bene Però non vorrei che poi forse Anche da quest'altra parte Possiamo Attenzione Attenzione Ok andiamo qua Qua si può ancora sbloccare qualcosa Aspettate un attimo Perché non vorrei che poi dopo magari Oh ne ho beccato un altro Quindi secondo me se riusciamo a beccare Altri posterini Da qualche altra parte Là ce ne sta un altro Aspetta un attimo Ok Quindi ce ne manca soltanto uno Da sblocchiare Come posterino Come posterino Attenzione un attimo Che non è che riesca a vedere tutti quanti Aspetta questo non è un posterino Uh che spostati eh Perché Obiettivamente a volte Ho un po' di difficoltà Qua non ci sta un tu Aspetta un attimo Che forse abbiamo beccato qualche altra cosa No abbiamo beccato niente 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 Allora qui per altra volta Ci siamo entrati tramite Al crossburns Allora qua Vediamo se costruiamo qua che c'è Ah già qua Avevamo bisogno Di qualcosa Per costruire Ok Fantastico Per colpire Ci dovrebbe essere Qualc'altra cosa Aspettate un attimo Vediamo un po' se No Non è là Vediamo un po' se riusciamo a beccarlo Che c'è là sopra Là non c'è un tubo Ok Qua abbiamo distrutto tutto Perfetto Vai avanti tu Che mi viene da ridere Ma qua non ci sta niente Facciamo così Rompiamo qua E vediamo se troviamo Qualc'altra cosa qua dentro Perché qua pure si riesce a rompere Quindi Magari troviamo qualcosa No Hulk Però Con calma Hulk Allora Qua lo costruiamo Perfetto Ok Anche se qua credo che Avrebbero bisogno di Capitano America Aspettate un attimo Non c'è ancora niente Allora ci manca soltanto Un pezzettino ancora Da riuscire A sblocchiare Allora Vediamo un po' se rompiamo qua Scusami Che qua si rompe tanta roba Perfetto Ah ecco qua Ecco qua L'abbiamo sblocchiato Stavo là dentro Io qua rompo Brava 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 Rompi 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 Scusami Hulk Ma non sei tu Quello che deve rompere Vai vai Ok Cambiamo un attimo personaggio E non vorrei che poi Forse qua Qua non ci sta niente Ancora Che qua dice che ancora Che cosa abbiamo bisogno Il termine di accesso Ok Quindi in pratica può essere Ma tu riesci ancora Alzare qua Perché qua c'è Ancora illuminata Sta pallina Ma Strana sta cosa Vabbè qua Abbiamo blocchiato Ah Non vai bene tu E giustamente Non vai bene Quindi secondo me Abbiamo bisogno Vuoi vedere che abbiamo bisogno Di Del nostro capitano Aspetta un attimo Vediamo un po' Sì E infatti così è Vai 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 Ok E mezza Oh Ok bravo capitano Hai rotto anche quest'altra cosa Bene Ah c'è ancora altra roba qua No non c'è niente Allora qua Mi sa che secondo me Possiamo sbloccare Qualc'altra cosa Aspettate un attimo Se non ricordo mai Noi utilizzavamo Lui abbiamo utilizzato Crossboards Vediamo un po' Se anche qua lo fa fa E infatti così è Aspettate un attimo Vediamo cosa abbiamo Oh Lucidatrice E c'ha ragione Che si increvola Questo lo facciamo Sotto le fatiche La possiamo pilotare Sì infatti No aspetta No 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 La dovevamo pilotare Vai sali Ok E vabbè Giustamente dobbiamo pulire Un pochettino Qua abbiamo pulito E infatti così è Anche qua dobbiamo pulire E abbiamo pulito Siamo a due Ah là bisogna montare Oh che è successo Dobbiamo montare qualcosa Passiamo soltanto Così Di sfuggita Siamo a tre Ok Ultimo Vai E fatta Ok Bene così Puoi mollare Quindi l'abbiamo raccolto Tutti Ok Qua costruiamo Anche se qua c'era un'altra cosa E infatti qua mi trovavo No Ma qua si può entrare Qua No non si può entrare Ok quindi Rompiamo anche quest'altra cosa qua Che c'è qua Eh no Giustamente Aspetta Qua abbiamo sempre bisogno Di Capitano America Aspettami Eccolo qua vai Dai un bel cazzottino Vai 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 Veloce 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 E beh Ok Abbiamo rotto giusto Qualche osina Aspetta un po' Spurco mi sembri Tipo lottatori di wrestling Quella che saltano sopra lì Per cercare di Ehm Non so di fare tipo Qualche salto Della vita Vai Ok Qua non ci sta niente Ok Andiamo avanti Vediamo qua se possiamo Costruire qualche altra cosa Ok Fantastico Qua non c'è niente Così Che c'è qua Ah ok Serve qualcuno per costruire Se ha ragione Allora Chi possiamo prendere Chi possiamo prendere A questo punto Prendiamo lei Vai 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 Veloce 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 Mi sa che lo vedo male Quello è lì sopra Lo vedo male Già sappiamo Ma l'abbiamo già fatto Dai guarda Hai visto Anche caduto Allora Dobbiamo salvare Il nonnetto qua E infatti qua ci serve Aspetta No no Dobbiamo Prima salvare lei C'è lui Anzi Scusami Ti ho dato Con quest'altro Vai Aspetta Questa se non sbaglio Servono i poteri Cosmici Dove sta Prendiamo sempre Ultron Se non mi sbaglio Che sta qua Ok Vai Ultron Vai A questo punto L'abbiamo imparato Il personaggio Che c'è qua a terra Ma tu vai bene qua No Ah no Qua ci serve sempre Dove sta Stai qua Scarlet Witch Vai Cosa ci troviamo Ah ok Il quinto Eccolo qua Sì è lui No 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 È una bevanda Ok L'abbiamo liberato Fantastico Mi sa che non ci sta Più niente da fare Qua Attenzione un attimo Qua credo proprio Non ci sia più niente Qua l'abbiamo liberato Tutto È caduto qualcosa Credo sia caduto Qualcosa Ah Ok Non capisco Che Ul che stai calmo Ul che stai calmo Allora qua non ci sta niente Fantastico anche di qua Ok Abbiamo preso un po' tutto Anche da quest'altra parte Sì ho capito Che dobbiamo costruire Però volevo essere sicuro Che poi magari Non avevamo altre cose da fare Attenzione Di qua non c'è niente Ok Costruiamo qua E vediamo che c'è Brava ragazza Ok Li abbiamo presi tutti Aspetta un attimo Perché c'era qualcosa là Scusami Ul che Vediamo se Tu ci riesci No non ci riesci Vabbè andiamo avanti Allora Prendiamo lei Perché giustamente Sennò come facciamo Ma qua non è che si rompe No non si rompe Ok vai No qua ci serve sempre capitano Dove stai? Vai Vai capitano Vai Ah devi Devi schazzottare Schazzotta Attenzione Doctore Zola Ok Vai Ul che vai Vai Ul che vai Questa è tutta roba tua Questa eh Bravo Bravo Bravissimo Distruggiamo l'impossibile Che qua dobbiamo raccogliere Tutte le monete Vai Ul che vai Ul che Colpisce Colpiscemi questa Questa scrivania No questa scrivania Allora Magari non cerchiamo di beccare anche Occhio di falco Bravo bravo Rompiamo un po' di tutto Ci freghiamo tutto Dobbiamo sfasciare No no Magari sul fuoco Io direi Di stare un po' più lontano Bravo 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 Più forte Vai occhio di falco Ah no Pensavo che se si schiazzottando Occhio di falco Ma perché non Ah ecco Colpisci sempre questo Che da qua becchiamo un sacco di roba Non riesci a beccarlo Vai Ok Vai Ammazza Quanto ce ne stanno Vai vai Continua Può essere che ne becchiamo altri Basta Ul Basta 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 Ul Sai Calmo Allora Andiamo Che è successo Ok Attenzione Oh Allora facciamo così vai Ci prendiamo Un attimo Capitano America Perché Dobbiamo Stemperare un attimo Il fuoco qua Porca miseria Vai vai Toglimi sto fuoco Toglimi sto fuoco Bravo capitano Ancora Attenzione 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 Aspetta un attimo Aspetta un attimo Vediamo se riusciamo A rompere qualche altra cosa qua Ma qua che c'era qualcosa Qua dentro No Non c'è un tubo Non c'è un tubo Ma qua invece Aspetta un po' No Qua ancora niente Perfetto Allora qua devi costruire qualcosa Perché altrimenti Non riusciamo ad uscirne fuori Hulk ma non mi Non mi dai una mano Aspetta Ah no C'è uno scudo Manco per niente Attenzione Un po' Credo che l'abbia fatto apposta Ok Aspetta un attimo Che qua ci serve Occhio di falco Vai Aspetta Attaccato Vai 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 Lasciami stare Hulk mi devi dare una mano Aspetta che là c'è Ah Dobbiamo rompere Quell'altra cosa lì Non credo che tu Ah no Ce la fai Ce la fai Ce la fai Vai vai colpisci Colpisci Ok Ce ne sta un altro La furia Allora facciamo un attimo Una cosa Ci prendiamo Un attimo Sentrai Perché ho visto Che qua c'è Ah Là ci sta qualcosa Là sopra Fantastico Anche qua c'è qualcosa Ok Vediamo No ho sbagliato Ho sbagliato Vai scendi Ho capito Che c'è da qualcosa Ah ecco Ci si è sblocchiato Da sud Sì 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 Aspetta però Utilizziamo Sentrai un attimo Che qua c'è qualcosa Che dobbiamo raccogliere Dovremmo capire Come fare per entrare Là dentro Aspetta un attimo Allora Qua non c'è un tubo Vediamo un po' Se da qua dentro Riusciamo a beccare qualcosa Non ci dimentichiamo Di là che c'è qualcosa Ma che stai Stai scendo Da 20 minuti Ah 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 Aspetta che qua c'è qualcosa Qua non becchiamo niente Ok qui ci serve Visione Vai Intera Perfetto E ci becchiamo Anche quest'altro E rientriamo dentro Vai Vai Svolazza Allora Avevo visto Qualche altra cosa ancora Aspetta un po' Vai in alto qua Perfetto Tanto comunque Ci dobbiamo arrivare Anche dopo Però È sempre meglio Avantaggiarci Perché poi magari Va a finire Che non ci rendiamo conto O magari Non scopriamo Altre cose Ok qua non c'è un tubo Ok ce ne possiamo Anche andare Vai Ti conviene scendere Aspetta un po' Andiamo giù Vai giù Ok Non troppo giù Alle Aspetta che là c'è qualcosa Aspetta Aspetta Vai 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 di qua Vai di qua Scendi giù Perfetto Allora Qua c'è questo Rompiamo anche Quest'altra parte qua Così ci rendiamo conto Che cosa? Prima che tu me lo chieda Ho un assimilatore temporale Non ti serve Sapere come sono arrivato Ti dirò soltanto Che cerco Un'autentica maschera Del peschio rosso Di Smith Trovala per me E ti proporrò Uno scambio Assai Grazie mille Allora dobbiamo trovare La solita Per becchiare Il mattoncino Allora personalmente Qua c'è qualcosa Qua dentro Secondo me Quindi non vorrei Che sia proprio là Sì Ok Ho capito Ho capito Ho capito Aspetta un attimo Che adesso Ce lo cambiamo subito Dove sta? Ecco qua Mentre Hulk No 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 Non ce l'ho ancora Allora Che c'è qua dentro Vediamo un po' Magari ci tro... Ah 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 Aspetta che qua c'è bisogno Del nostro carissimo amico Quicksilver Dove stai? Qui Ok Puoi entrare E andiamo Vai vai Veloce 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 Ok Hai sblocchiato Quest'altro Ma pensavo Che riuscissimo A trovare Qualcosa Tipo Ma invece no Ok Allora dobbiamo Darci più dentro Da fare Perché qua Non ce l'abbiamo Beccato Niente Ok Cambiamo un attimo Personaggio Che qua Penso che ci serva Vediamo un po' Se va bene Lui Ok Ok vai bene Vai Vediamo se sblocchi Qualcosa là Che ci sta Ah Sempre Capitano America E andiamo Bravo No Ah Beccato lui Pensavo Sessimo Ma A volte Ci riesci Sì vabbè Ultimo lo lasciamo Sempre là In azione Magari Ah bravo Sì Ok Fantastico Peccato che non riesci A volare Perché se no Avremmo sicuramente Utilizzato te Ci becchiamo Sentrai Vai un attimo Sentrai Lo riesci a beccare Sentrai Bravo Sentrai Qua c'è qualche altra cosa Non c'è niente Non c'è niente Ok puoi anche scendere Vai Andiamo giù E andiamo giù Allora mi sa che qua Dobbiamo cercare Qualcosa Bravo Sentrai Allora qua non c'è più niente No Mi sa che c'è bisogno Per forza di occhio di falco Aspetta un attimo Perché qua non ho capito Se c'è qualcosa Che possiamo Sblocchiare Aspetta Aspetta Facciamolo così vai Ci dobbiamo Prima di mezzo Sta cosa Che ci dà veramente Molto fastidio Vai 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 Mazza Hulk Come sta Inchecchiato Attenzione Attenzione Ok Sblocchiato anche questo Vai Aia Ce ne sta un altro Andiamo avanti Allora qua non ho capito Se c'è qualcosa Si Mi sa di si Dobbiamo sbloccare qualcosa qua Che ti serve Aspetta che non ho capito Chi Il cavolo ti serve Aspetta Aspetta Vediamo un po' Allora se questi ci danno sempre Fastidio ragazzi Vi dovete fare da parte Se no Hai ragione Hai ragione Aspetta 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 Che adesso prendiamo Prendiamo le Lei Lei Vai Vediamo un po' Eh dai Lasciami stare un pochetto Ogni tanto Mi potresti lasciare libero Ah c'è qualcuno Là dentro Ah ok Anche questo L'abbiamo sblocchiato Però ci sta lì Uno qualcuno Da manovrare Attenzione un attimo Eh si C'è bisogno di Lei Vai Aspetta un attimo Che non va bene Non l'hai beccato Non ci ha beccato L'hai beccato Manco per niente Aspetta un attimo Vai Ok Beccato Vai Azione la leva Che c'è Ah Per il mattoncino rosso Meno male Non l'ero già dimentichato Allora Mi sa che è meglio Che prendiamo Occhie di falco Perché mi sa che È lui Che dovrebbe andare bene Ah no Aspetta Ho sbagliato Ho sbagliato un attimo Ci prendiamo un attimo Sentrai Vai su Sentrai Sentrai E vai Sentrai Scendi Allora vediamo un po' No no Oh L'hai beccato L'hai beccato Questo si cacchia Non ci dà niente Vediamo un po' Forse c'è bisogno di Ultron Dove sta? Sta qua Ok vediamo un po' Se lui va bene Sì va bene Vai Dai 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 Qua dovrebbe esserci E infatti c'è vai Glielo prendiamo E glielo portiamo Sei contento? Ma perché fa sempre così? Ok grazie anche a noi Siamo tutti contenti Che c'è? Non ci sta niente Ok possiamo andare avanti Oh scusami Ti sei scottato Vai 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 Porca Allora mi sa che c'è qualcosa Allora Allora Cambiamo personaggio Ecco qua Così facciamo prima Ah ci serve occhio di falco Vai Sì ce la faccio Se la faccio Non ti preoccupare Se mi dai una mano Tipo Ma che c'è i gatti attorno? Aspetta Madonna Mi hanno ammazzato Vai vai Colpisci mi Vai Lascia lo libero Vai vai Costruisci Ma che cosa Ma non mi dai una mano Dammi una mano Ti prego Che cos'è questo? Vabbè capirai Ci siamo già saliti Allora qua penso abbiamo fatto tutto Sì ok Quindi andiamo qua E vai Perfetto Vabbè Tra la parte Ci siamo anche Già saliti Ma no Guarda Che è successo Che è successo Aspetta che forse Ma porca Ecco vai Allora vediamo un po' Se ci riusciamo lo stesso a entrare E stanno sta cosa Vai vai Ecco bravo Facciamo prima così eh Perché la modalità scudo L'avevamo attivata Ma sinceramente Non è che ci facevi Far andare avanti Non è che forse Dovevamo costruire qualcosa Ma Andiamo avanti Vai saliamo Vai che è meglio Ascensore Non molto sicuro Secondo me Ok facciamo Ah no Stanno scappando Sti bastardi Stanno scappando Andate Andate Che tanto Peripiglia A tutti Allora All'altra parte Tanto ci siamo già stati Quindi non è che Ce ne frega Più di tanto Bravo Lanciamoli di qua Qua secondo me Ci sono molte monetine Che possiamo Becchiare Item anche qua Attenzione Facciamo fuori Questo un attimo Bravo Qua c'è qualcosa Da costruire No vabbè Non ci serve Perché serve Per andare All'altra parte Ci siamo già Andati Perché abbiamo Svolazzato Allora qua C'è roba Da raccogliere Ce la raccogliamo E vediamo Soprattutto Che c'è qua No 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 Qua secondo me Ci sarà Solamente qualcosa Da C'è soltanto Un fuoco Fuocherello Ma poi Non si può Fare più Un tubello Aspetta Che forse C'è qualcosa Da rompere Vai vai Sono sempre Munite Vai 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 Basta Cambiamo personaggio Ok Che c'è là Aspetta No là Non si può rompere Ok Pensavo si potesse Già rompere Lassupra Invece Nata ne nada Ah ecco Dobbiamo saltare Sopra Vai 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 Ok Fantastico Che c'è Sto cosa qua Riesce ad entrare Da solo Ok vai Occhio Bravo Prima non ce l'ha fatto utilizzare Ma strana sta cosa Stiamo a entrare Che è successo Non è un problema L'idra Non si retira Vediamo come reagirà L'eroico Captain America Di fronte a questo Pib Capitano Rogers Che cosa è successo Speravo che il problema Alla radio Fosse risolto Il testo rosso Dovrebbe essere Molto vicino Ormai Ah Mennomale Ok Ammazza Ah già Aspetta Aspetta Là c'è qualcosa Però ci serve qualcuno Che diventi Trasparente Vai 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 Entra Entra Ok siamo a sette Andiamo Vai occhio di falco Vediamo un po' Se ci conviene forse costruire Stavate in due prima Due occhi di Attenzione che questi ci attaccano Aspetta un po' Vediamo un po' Che cosa A che cosa ho mirato A un tubo Aspetta un po' Aspetta Aspetta Sei caduto Mi sa che ci serve Mi sa che ci serve Capitano America Vai Vediamo un po' Se ce la fai Ok Vai 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 Bravo capitano Vai Scaraventamelo via Vai 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 Ma non dovresti essere più forte Ma che è successo? Andata in difficoltà Ragazzi Ma come torni indietro? Oh Non vorrei essere Ma abbiamo praticamente colpito Aspetta Aspetta Stemperami questo fuoco Vai Ok Allora Togliamoci di mezzo Stipastardi Ragazzi Vi dovete fare da parte Vai Bravissimo Vai Coppia Vincente Anche se l'è trasparente Non la vedo proprio Allora qua Vedete che si serve sempre occhio Vediamo un po' Ok Bravo Occhio Vai Con un po' Ancora ragazzi Ma Ancora non l'avete capito Ma fatevi da parte Allora Qua c'è un bel trampolino Se non ricordo male E infatti così Eh Ok Bravo Occhio Vai Saltami di qua Ok Vai Attaccalo Attaccalo Sono con te Fino alla fine Amico Se falliamo Siamo Insetti Sul parabrezza Datevi una mossa Insetti Ok Dai che ci siamo Siamo Che c'è qua Allora Vediamo se possiamo già rompere qualcosa qua dietro Oh attenzione Aspetta aspetta Qua c'è qualcosa Ok Fantastico Siamo a otto Ne mancano due Mi sa che ci mancano soltanto Ah ci manca ancora un altro personaggio Ah porca miseria Speriamo di farcela Ok Rompimi sta cosa Non mi ricordo se qua C'erano altri o meno Vabbè comunque Non ci demoralizziamo Oh Sono caduto Che c'è qua Allora rompiamo un po' di tutto Aia Arrivano da giù Arrivano da giù Forza occhio Forza occhio Siamo nelle tue mani Speriamo di non morire Quindi dobbiamo salvare Altri due personaggi Dobbiamo becchiare un altro Blecchetto Ok Ok vai Bravo Toglimi un po' di corrente Qua l'abbiamo beccati tutti Perfetto Aspetta Là ce ne stiamo altro Ah là ci sta qualcosa Ah L'abbiamo già sblocchiato E poi l'abbiamo riperso Fantastico Che culo Dai dai Vediamo se riusciamo a ripassare No Guarda che dovresti passare Ok bravo Allora Qua cosa ci serve Vediamo un po' Ci serve Lei Aspetta un attimo Dove stai Poteri 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 Vai Ok vai Che è sto coso Ah Sono radiazioni Vediamo un po' Se Ah ok È caduto qualcosa Ah ok Ne abbiamo becchiato un altro Fantastico Abbiamo quasi terminato Vai Con la potenza Di non so che cosa Andiamo avanti Rompimi sto coso Ma questo lo possiamo anche rompere Da un fastidio tremendo Vai occhio Vai Porca miseria ragazzi Ma ci state tormentando Proprio Attenzione Attenzione Ok Qua ci stanno altri due Vediamo se riusciamo a toglierli Che c'è qua dentro Che è successo Vai vai Costruiscimi questo coso Fantastico Vediamo qua Ah mi sa che là devo saltare Oh Attenzione Oh Ne abbiamo beccato un altro Vai Fantastico Attenzione Attenzione Dove stanno Dove stanno Venite qua Venite qua Ma porca Ma dai Ma ci avete fatto cadere di nuovo Lasciateci libero Oh Oh Chiavolo Ah Vero Avenger Aspetta che qua ci serve Capitano America Se no Non possiamo rompere Non possiamo Stemperare il fuoco L'hai fatto con tutto No no Mi sa che devi costruire qua Bravo Aspetta un attimo Che qua c'è qualcosa qua dentro Che è sta cosa qua Perché dici così Ah c'è un altro fuoco Ah si ok C'è un altro fuoco Allora qua non ho capito C'è qualcosa Vedo Vediamo se Possiamo utilizzare No aspetta Forse c'è bisogno di lei Vediamo un po' Eh infatti si Mi sembrava stanno Vedevo qualcosa Ma non lo vedevo Aspetta un attimo Dove sta Dove sta Ok Uno sta qua L'altro sta qua L'altro sta qua Eh ma ce le devi dare le monetine Però Ok E andiamo anche qua Vai Ok dobbiamo sparare là eh Brava ragazza Ok Siamo arrivati a dieci L'abbiamo sblocchiato Possiamo andare avanti E terminare Allora qua innanzitutto Vediamo di capire Qua mi sa che Dovevamo salire veramente Perché ogni volta Non possiamo utilizzare Il nostro fantastico scudo Aspetta che qua C'è un'altra cosa Che dobbiamo Costruire Eh si Era giustamente La schiara Aspetta aspetta Che la attiviamo pure Così stiamo a posto Ecco qua Vabbè tanto capirai Cioè eravamo già saliti E poi tra parentesi Ok Ok Vai così E vai così Allora vediamo di Utilizzare Sto coso Vediamo se ce la facciamo così Ma non ho capito Ma non lo midi così Ecco bravo Ok Bravo così Perché in pratica Dovremmo in pratica Costruire qualcosa Perché con lo scudo Non ci riusciamo Aspetta 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 Vai 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 così Ah bravissimo Vai Costruiamo sto coso L'avevamo quasi costruito Porca la paletta Aspetta 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 che forse ci riusciamo Aspetta Cambiamo il personaggio un attimo Non me lo fate cadere Non me lo fate cadere Aspetta 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 che ci riesca un beccalo Ma dove stai Capitano Aspetta 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 Che questo è un bastardo Ma perché se Capitano America se ne sta giù Perché se ne stai giù Scusami Non capisco Dai forse Salta su Fai il tuo dovere da capitano L'hai messo sto Sto cavolo di scudo Ah Finalmente Hai messo sto cavolo di scudo Ma no Dovevi andare diritto Aspetta Aspetta un po' Vai così Vai così Vai così Aspetta Vai ce la fai Ce la facciamo Ce la facciamo E vai Ancora niente Ancora niente Mi sa che è meglio Che facciamo così Facciamo prima Ok Vai vai Colpisci Questo ragazzino Bravo Fantastico Giriamo Dall'altra parte Dall'altra parte Vai così Tanto occhio di Falco Ormai È morto Ok Aspetta Occhio eh Azionami sto coso Bravo No Di là Che palle Ragazzi Ma dai Devi tirare là Vai Cavolo Allora Perché Allora Vai Forza Lei L'hai attaccata Sta cavolo di cosa Allora facciamo così Vai Ecco qua Ecco qua Facciamo così Così tagliamo la testa al toro Così non dovremmo avere problemi Ma l'ho attacchiata Scusami Vai Che Che cavolo Ti succede Aspetta un po' Vabbè Possiamo anche andare avanti Secondo me Di qua Aspetta un po' Vai così Anche per quella Poi non è che ci serviva tanto Attenzione Attenzione Siamo passati Vai Chi è che sta sparando Ancora in continuation Ragazzi Ragazzi Dateci Dateci Tregua Aspetta che Prendiamo un attimo Prendiamo un attimo Lui No ragazzi No 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 Me l'avete fatto cadere Ah si Beccati sto coso Vai andiamo avanti Andiamo avanti Devi beccare Assolutamente Sto cannone Che ci sta dando Un dormento Vai che andiamo avanti Vai che andiamo avanti Oh cavolo Mi raccomando Con lo scudo Capitano eh Mi raccomando Con lo scudo Mi sa che qua E' meglio costruire Subito qualcosa Vai 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 Ce la fai andare avanti Ce la fai Manco per niente Attenzione un po' Aspetta che qua c'è qualcosa Facciamo così vai Cambiami Ma avevamo cambiato Aspetta che sta qua la roba E' brava ragione Vai vai Costruisci Attenzione un attimo Ecco qua perfetto Vai salta su Ok vai che adesso Non dovremmo avere problemi Credo Pezzo rotto Altro pezzo rotto Vai Ma dai Che si spaccia Porca miseria Ero convinto Di poterlo distruggere invece Vai 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 Ah Fantastico dai Chiediamo sto Sto coso qua No Sono caduto di nuovo Ragazzi Vai 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 No ragazzi Lasciatemi stare Dobbiamo andare giù Vai 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 avanti distruggiamo l'impossibile Attenzione Toglietevi dalle scatole Toglietevi dalle scatole Capitano America Maki Resisti Dammi la mano No No Ha una missione signore Esatto Per reintegrarmi nel mondo Per salvarlo L'arma segreta dell'Idra Domani Idra si innalzerà a padrone del mondo Mortata alla vittoria sulle ali della Valkyria Dovevate lasciarlo nell'oceano Ok Idra su Rotaia completato Sicuramente Al massimo abbiamo raccolto Tantissime monete Alla grandissima Blocchetti su blocchetti Ok Quindi qui è andato abbastanza bene E non abbiamo problemi Poi Qui se non si sbaglia Ci siamo andati benissimo E infatti così è vero Avenger E grazie Abbiamo sblocato Anim Zola E Dum Dum Daga Qui si può ricompare Teschio rosso Ammazza Sotto reso uno Porca la paletta Il blocchetto Mettoncino rosso L'abbiamo sblocchiato Ok Anche Stanley L'abbiamo liberato Tutti 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 Ok Cosa ci dai Oh Nuovo fumetto Sblocchato Di Capitan America Grazie mille Ok Qua siamo a 127 Ok No 128 No 129 Basta Ok Possiamo uscire dal livello Ok ragazzi Quindi penso Non si è andata Abbastanza bene Vi faccio vedere Anche i personaggi Li acquistiamo Abbiamo Teschio rosso Lo possiamo anche prendere 25.000 E ce lo sblocchiamo subito 5.000 5.000 5.000 Pure va bene Ce lo possiamo tranquillamente Sbloccare E poi abbiamo Questo qui Dovrebbe Ah porca la miseria 90.000 Porca la miseria Vabbè dai Comunque L'importante È che abbiamo Altrimenti Spera come sapere Questo video Vi sia piaciuto Avrigate sempre In commentare Se vi piace Non ci vediamo Nel prossimo video E bye bye